StaffEyes implementa gelato live show di Gabriele Ancona. A Cigep StaffEyes ha presentato l'ampliamento della gamma di gelato live show, linea pensata per dare l'opportunità di realizzare una gelateria artigianale in poco spazio e i nuovi mantecatori da banco, come racconta il direttore vendita Italia Andrea Berardi. StaffEyes System, siamo qui anche quest'anno, come da 41 anni a questa parte, nella fiera di casa a Rimini. Al Cigep presentiamo l'ampliamento della gamma del gelato live show, la macchina che fa il gelato direttamente da servire al cliente, inserendo la macchina col pozzetto singolo e quella a quattro pozzetti. In più abbiamo potenziato ed alzato i nostri mantecatori da tavolo e quindi siamo orgogliosi di essere qui e di farvi vedere i nostri nuovi prodotti. Buona giornata!